L'Italia non è mai andata via, c'è stato un momento di forte arrabbiatura che io comprendo perché c'è stata una campagna di linciaggio contro questo operatore che per quanto riguarda ha soltanto non solo la nostra stima per ciò che fa ma anche la nostra gratitudine perché ci ha aiutato moltissimo in un momento in cui altri ci avevano abbandonato. Quindi naturalmente ci possono essere degli intoppi come per tutte le compagnie aeree ma per quanto ci riguarda ha fatto un investimento serio e importante che va tutelato e in più si sono sentite cifre assurde dicendo che avessero preso un milione di incentivi quanto ad oggi non hanno neanche preso 450 mila euro e quindi in linea con quanto pubblicato nella policy di SAC. Quindi per quanto ci riguarda grande apprezzamento anche per questa scelta che dimostra anche senso di responsabilità nei confronti dei loro passeggeri e comunque di noi siciliani che da Comiso viaggiamo ad oggi con Aero Italia.